Nella valigia rosa shocking con deodorante, spazzolino e dentifricio, otto pistole automatiche nuovissime, senza matricola. L'uomo in arrivo con un treno proveniente da Mestre è stato bloccato alla stazione centrale di Napoli. 37 anni di Pomigliano portava con sé un trolley rosa, apparentemente nulla di strano. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna lo tenevano d'occhio da un po' e quando è arrivato nella stazione centrale di Napoli lo hanno bloccato. Nella valigia rosa shocking con deodorante, spazzolino e dentifricio, otto pistole automatiche nuovissime, senza matricola. Il 37enne è così finito in manette, le pistole sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti.